Musica Un cordiale saluto, buongiorno, ben ritrovati a tutti carissimi telespettatori di Fano TV Buon inizio settimana, siete sul canale 17 come sempre per l'edizione di Occhio ai giornali che è la rassegna stampa con i tre quotidiani Carlino Corriere, messaggero in edicola e nel nostro touchscreen vedremo tra poco con le notizie i titoli più importanti Prima però diamo uno sguardo al santo del giorno, oggi è Sant'Isidoro di Siviglia, è stato vescovo è un santo del 560, scrisse molto, il sole è sorto alle 6.75 e tramonterà alle 19.40 Allora il tempo per quanto riguarda la giornata di oggi, continuano le giornate un po' uggiose andiamo a vedere la telecamera esterna velocemente ecco vedete tanto per farvi vedere subito com'è la situazione qua sulla costa siamo a Fano, questa è la telecamera, non si vede nemmeno l'immediata collina vedete tutta coperta dalla foschia il cielo per oggi sarà poco nuvoloso con possibilità di locali rovesci sui rilievi meridionali della regione, le temperature sono in aumento per domani martedì 5 aprile, giornata serena con poca nuvolosità le temperature sono in aumento tempo stabile anche per il resto della settimana peggiorerà forse nella giornata di venerdì e nel fine settimana la notizia in evidenza oggi è quella di cronaca su tutti e tre i quotidiani la tragica fine di un uomo di 44 anni di fossombrone che è caduto in un torrente, nel torrente Tarugo e dopo sei ore passate, tutta la notte, trascorsa all'adiaccio, nell'acqua è stato recuperato nella mattinata di ieri in forte stato di ipotermia è morto poi all'ospedale di Fano nella mattinata ne parlano i tre quotidiani ecco il messaggero vola nel fiume, muore di freddo giù dal ponte Luigi Rizzi, 44 anni è finito con l'auto nel Tarugo sbalzato dall'abitacolo della sua auto quando è stato trovato era in ipotermia il grave incidente nella notte nelle campagne di fossombrone l'uomo stava rientrando a casa l'allarme è stato dato dalla compagna è rimasto in acqua per almeno sei ore soccorso e trasportato all'ospedale di Fano è deceduto nella tarda mattinata qui la foto della vittima appunto di Luigi Rizzi poi sempre sul messaggero di oggi ancora cronaca grave un ciclista fanese colto da malore sul Conero adesso si trova in gravi condizioni nell'ospedale Lancisi un 48enne di Fano appassionato di ciclismo amatoriale lo sportivo stava partecipando ad una cicloturistica due settimane fa la morte invece di Palazzi in una gara in Romagna questo è il messaggero sempre su questo argomento notte nel torrente ucciso dal freddo siamo sul corriere adriatico esce di strada e vola per 15 metri recuperato ieri mattina un 44enne muore per ipotermia qui c'è il gruppo di ciclisti che il ciclisti e l'amico che si sono calati per soccorrerlo che lo hanno individuato qui invece l'auto recuperata dai vigili del fuoco vedete con un autogru e qui si racconta in questo articolo di Spalla il coraggio il coraggio di tre ciclisti e dell'amico all'insegna della grande generosità e solidarietà Andrea Ricci di Fossombrone Vincenzo Patruno Tommaso Benini entrambi di Fano sono i tre biker coloro che vanno in bicicletta del gruppo I Briganti di Fossombrone che insieme a Massimo Pierucci residente a Bella Guardia dove è successo il fatto e amico della vittima si sono impegnati allo spasimo sino a calarsi dentro il torrente per cercare di prestare soccorsi a Luigi Rizzi che aveva trascorso tante ore al freddo tanto da essere finito in uno stato di ipotermia che non gli ha consentito però di sopravvivere ed è stato individuato intorno alle 9 di ieri mattina ma l'allarme della compagna è stato dato il giorno precedente la notte precedente intorno a Luna dunque l'altra pagina invece è quella del resto del Carlino c'è innanzitutto la prima pagina con la fotonotizia del ritrovamento dell'auto che è stata recuperata dai vigili del fuoco come vedete morto di freddo questo è il titolo finisce di notte nel torrente con l'auto ritrovato la mattina in ipotermia irreversibile la tragedia di un 44enne di Fossombrone mentre le pagine interne eccola qua con la ricostruzione della dinamica di come è uscito fuori strada vedete è caduto è uscito probabilmente in una curva qui si vede nel disegno di Giombetti stava forse parlando al telefono qui lo ha disegnato mentre vedete è al cellulare poi qui esce di strada e una persona che lo ritrova e lo vede scorge dall'alto anche sul nostro sito ci sono le fotografie era anche un po' difficile ritrovare vedete tra la folta vegetazione questa auto seppur di colore rosso questa Fiat Cubo di colore rosso sulla quale viaggiava comunque era difficile anche riuscire a individuarla là in fondo vicino al torrente è finito appunto quest'auto nel torrente era vigile nonostante l'ipotermia poi c'è stato purtroppo l'arresto cardiaco la beffa del destino scrive ancora il giornale il caso ha voluto che la tragica morte del 44enne meritasse l'attenzione della cronaca proprio come la sua straordinaria nascita perché Luigi Rizzi era nato il 3 maggio del 1972 primo figlio in Italia di una coppia di genitori gravemente disabili e quindi finì già sul giornale il giorno in cui venne la luce e purtroppo anche il giorno in cui ha lasciato questa terra per la nuova vita l'auto non ha capottato ma il 44enne è stato incapace di risalire sulla scarpata quando i soccorsi lo hanno ritrovato era con tutto il corpo immerso nel torrente questi sono i dettagli la cronaca la ricostruzione di quello che è accaduto di questa tragica notizia tutta sui tre quotidiani che vi ho appena letto e adesso ricominciamo e partiamo dalla prima pagina del messaggero che torna dopo giorni di sciopero anche sul nostro touch screen e quindi nella nostra segna stampa innanzitutto sotto la testata vedete le notizie di sport con il Fano il Fano che centra la decima vittoria in casa e sorpassa dunque così il Matelica sempre nella stessa serie in serie D e parlando di calcio la Vis Pesaro che infiamma il Benelli in casa per la salvezza a questo punto è quasi fatta la reazione invece per quanto riguarda il basket la reazione c'è la Consult Invest vince a Venezia alla supplementare ma a centro pagina vedete si parla diciclabile in Baia a Pesaro e Braccio di Ferro scontro PD ambientalisti nessuno sbancamento al campo di Marte è tutto regolare il segretario zonale Marignucci dice il progetto già previsto nel primo piano spiaggia alle Cesane l'antenna della discordia invece Urbino la protesta dei residenti contro la ditta che dovrà installare il ripetitore e poi sotto le previsioni con nebbia sul litorale ce ne siamo accorti ormai presente da giorni ancora sulle pagine interne del messaggero gomme tagliate e sfregio all'auto mi perseguitano ormai da mesi parla Danilo Billi fotografo ed editore di Pesaro Click e che sta vivendo un crescente di offese e danni lo sfogo dopo l'ennesimo atto vandalico ai danni ai suoi danni adesso indaga anche la polizia vedete in questa immagine la gomma della sua auto praticamente a terra qualcuno evidentemente gliel'ha bucata poi i bagni pubblici del mercato delle erbe scontano gli eccessi del popolo della notte l'assessore Belloni dice sono sconcertato per colpa di qualche deficiente ci rimette tutta la comunità gente che si ubriache poi va in bagno e soprattutto non per darsi una rinfrescata ma per devastare tutto quello che trova all'interno di questi locali nuova questura in consiglio comunale verrà depositato un'ulteriore emozione Andreoli del nuovo centrodestra dice l'ex sindaco Ceriscioli ha portato avanti per anni un progetto inattuabile e costoso l'altro giornale torniamo sul torniamo sul corriere adriatico andiamo sulla pagina di Senigallia perché l'altra notte c'è stato un allarme all'ospedale al pronto soccorso di Senigallia perché c'era un'aria molto tossica tanta gente con lacrime agli occhi bruciori irritazioni insomma notte di accertamenti dei vigili del fuoco chiuso il reparto un paziente dirottato a Fano e qui vedete un carabiniere mentre controlla un po' i lavandini gli scarichi insomma cerca di capire da dove potesse arrivare questo odore sanitari e malati avevano problemi agli occhi e alle vie respiratorie ma nessuno è rimasto intossicato è morto è morto Monsignor Perini Brugneto e Ripe in lutto il sacerdote stroncato da un malore in Florida stiamo parlando di Monsignor Armando Joseph Perini stroncato da un malore in Florida Melbourne dove si era recato per festeggiare il genetliaco cioè il compleanno di una suora che era stata per lunghi anni sua assistente quando svolgeva la funzione di parroco ad Edison nel New Jersey questa è la pagina di Senigallia andiamo invece su quella di Pesaro perché intanto c'è il resoconto di una manifestazione di una rievocazione Tex Wheeler a Fermignano conquista il Paglio della Rana successo di Francesco Grossi della Contrada alla Pieve a Kevin Paoloni la sfida dei Putti poi invece sotto a centropagina qui lo vedete bilancio siamo a Pesaro tariffe invariate e servizi garantiti la maggioranza vuole investire sull'educazione delle noci l'assessore conta sui 10 milioni sbloccati dal patto di stabilità anche qui vedete vandali danneggiano imbrattano i bagni pubblici del mercato delle erbe erano stati amessi a nuovo soltanto da poco e Belloni dice sono sconcertato la pagina di Fano invece del Corriere Adriatico la vediamo subito parla di manifestazioni estive la notte dei desideri questa è la sorpresa dell'estate l'assemblea della Proloco di Fano elenca gli eventi della prossima stagione tra cultura e genuinità per i turisti e Etienne Luccarelli che è il presidente lo vedete nella fotografia ha riconfermato le manifestazioni che ormai sono diventate un punto di riferimento per la città e un classico anche un successo possiamo dire Fanogeo per esempio in giro per fan e fan dialetto queste sono le tre manifestazioni alle quali si aggiunge anche questa notte dei desideri di cui abbiamo appena accennato poi dall'ospedale ecco qui la fotografia pubblicata su Facebook dall'ospedale si appella alle donne abbiate cura della vostra salute il suo male è un killer silenzioso e su Facebook Claudia Nagliati scrive fate le visite di controllo poi in moto tampona un'auto ferito un giovane ducatista incidente lungo la statale tra Pesaro e Fano è successo intorno alle 12.30 sulla statale adriatica tra Fano e Pesaro all'altezza del ristorante Galloway un giovane fanese che era in sella alla sua moto Ducati mentre andava verso Pesaro ha tamponato una lancia musa condotta da una fanese cadendo rovinosamente poi sull'asfalto comunque le condizioni le sue condizioni non sono gravi adesso chiudiamo la rassegna con il resto del Carlino i nostri soldi è il caso di dire regione 5 anni di spese pazze cene e viaggi i pesaresi nei guai l'accusa per tutti è di peculato grandi banchetti a Natale ed ecco i dettagli questi sono i volti così scrive il resto del Carlino l'appuntamento fissato per il 16 maggio l'udienza preliminare davanti alla GUP esempio per spendere soldi non propri veniva dalla testa l'ex presidente Spacca ha accusato di aver speso in 5 anni 62 mila euro senza giustificazione in questo articolo di Damiani ci sono tutti o comunque forse quelli più curiosi insomma le spese più particolari quelli che fanno da una parte forse sorridere dall'altra fanno pure arrabbiare questa è la pagina di Fano scusate di Pesaro primo piano adesso le due pagine di Sport per chiudere velocemente ecco la pagina che riguarda il Fano l'Alma Juventus che ieri ha giocato contro l'Avezzano in casa e ha vinto per 1 a 0 Ambro ci mette la punta Fano il cuore Granata superano a fatica un solido Avezzano e conquistano il secondo posto dunque secondo posto per il Fano mentre si parla di salvezza per la Vis che ieri in casa al Benelli a Pesaro ha vinto per 2 reti a 0 contro il Castelfidardo Vis rullo in casa salvezza vicina settima di fila al Benelli svolta dopo 23 minuti rigore ed espulsione di Capparuccia la partita del Fano questa sera potrete come sempre seguire in telecronaca di ferita subito dopo il telegiornale che arriverà alle 20.30 puntuale come sempre sul canale 17 Occhio alla Notizia per tutte le altre news del giorno invece come sempre c'è il nostro portale internet occhianotizia.it sempre aggiornato buona giornata a tutti arrivederci a tutti i nostri